Un viaggio verso sud per un politico che viene dal nord e sostiene che le politiche del meridione devono essere valorizzate e promosse anche con un cambio di passo per costruire così una nuova classe dirigente in un paese dove i giovani dipendono dai vecchi. Tappa Termoli a Campobasso per Pippo Civati e la sua idea del Partito Democratico in cui è stato candidato alle primarie ottenendo il 14% dei consensi. Occasione per presentare il suo libro Qualcuno ci giudicherà in un confronto con diversi esponenti della sinistra del territorio. Io ormai sto invecchiando perché nella politica italiana va tutto così veloce di questi tempi che si invecchia precocemente quindi mi dedico soprattutto a quelli più giovani di me a costruire il gruppo dirigente a fare in modo che ci sia anche una cultura politica che ci accompagni. Molise è pieno di grandi storie politiche ho incontrato la componente socialista un po' trattata male dal PD di Termoli non ho capito perché ho incontrato esponenti del mondo democristiano del mondo che viene dalla tradizione comunista forse c'è bisogno di mettere insieme una nuova stagione in cui queste culture politiche non vengano annullate ma vengano promosse con un grande lavoro e uno sguardo verso il futuro. All'incontro di Termoli Civati è stato presentato dal vice segretario regionale del PD Michele Di Giglio presenti tra gli altri il sindaco Angelo Sbrocca, la deputata Laura Venitteli, la segretaria di federazione Giuliana Ferrara ed esponenti dell'area socialista rivendicato anche uno spazio da chi non è riuscito ancora a trovare cittadinanza all'interno del partito. Noi siamo un po' dappertutto, la cosa bella è che siamo dappertutto con le idee innovative a volte non sono comprese del tutto, altre volte ci vengono sottratte nella notte ma è meglio così, non rivendichiamo nessun copyright. Vorremmo un partito però in cui le componenti non siano vissute come correnti di potere per avere un assessorato in più che non ci interessa ma siano vissute come una grande forza politica scute in cui si parla di cose da fare, in cui ci siano i punti di vista che si organizzano anche per competere tra di loro però sulle idee non sui posti. Ovviamente è una provocazione, quanto Matteo Renzi c'è in Pippo Civati? Non lo so, parecchio come in tutti noi, siamo del PD, abbiamo delle idee diverse a cominciare da questa storia del Senato che ci sta perseguitando e che andrà avanti secondo me tutta l'estate però ci sono altre cose sulle quali fortunatamente non siamo lontani.